Il titolo di questo messaggio è La Nostra Memoria, perché Gesù, vi ricordate cosa disse? Fate questo in memoria di me. In questi giorni che sono stato un po' fermo, riflettevo su questa espressione. Fate questo in memoria di me. Riflettendo sono venuti dei pensieri che ho messo per iscritto qui, ma penso che non leggerò. Non li guarderò tanto, almeno, perché penso di averle scritte anche in un modo confusionario. Sarà stata l'influenza, cos'è, non lo so, però l'importante è che voglio che vi arrivi il messaggio, ok? Soprattutto. Fate questo in memoria di me. Cos'è la memoria? Perché dobbiamo capire cos'è la memoria pure. La memoria è una parte molto importante della nostra anima. Sapete, l'anima, la psiche, la mente, ma è ancora molto di più perché abbraccia anche l'aspetto spirituale dell'essere umano. E la memoria risiede in questa sfera, in questa area. Ha a che vedere con il ricordare le esperienze fatte, con anche avere a che fare, interagisce con l'immaginazione, perché a volte anche la nostra memoria può essere condizionata da ciò che noi immaginiamo, ok? Dalle circostanze che avvengono, dai fatti della vita. E quindi la memoria è molto spesso condizionata. Ecco perché Gesù, che ha fatto l'uomo e conoscendolo bene, sa che c'era un pericolo. Quando disse ai suoi, fate questo in memoria di me, avrebbero potuto dimenticare. Avrebbero potuto travisare. Avrebbero potuto contaminare la memoria. Ovvero quello che lui aveva detto e fatto con loro nell'ultima cena. Quindi la memoria è un aspetto molto importante della nostra vita naturale, ma per quanto riguarda la Chiesa la vita spirituale è molto importante. Tant'è vero che noi ogni mese ricordiamo questa memoria, ecco, si rinnova. E non solo ogni mese, dobbiamo ricordarla ogni giorno. No, ogni mese insieme, ma ogni giorno individualmente deve risiedere questa memoria nella nostra anima. Perché? Perché la memoria è soggetta, fratelli miei, a dei rischi incredibili. E l'esperienza ci dice proprio questo. Tanti a volte fratelli che hanno perso la memoria della cena del Signore, di ciò che Gesù ha fatto per l'uomo. L'hanno perso, se la sono lasciata rubare, l'hanno contaminata, l'hanno distorta, e a volte la filofos... come si può dire? La trattano in un modo filosofico. Si sono smarriti, come suol dire. E come diceva qualcuno che a volte, una volta, mi è capitato, non so, ve l'ho raccontato, forse in un supermercato, c'era un signore che stava pagando la spesa, c'era una signora e dopo di lui, una signora, infila la cassa, la cassiera, questo signore che stava pagando, la signora e dietro c'ero io. Al villaggio Mosè mi è successo questo, qualche anno fa. e allora la cassiera paga, questo signore paga la spesa e se ne va. E la signora, la cassiera, chiama, senta, scusi, ha dimenticato il resto. E la signora, che doveva pagare dopo, guarda la cassiera e gli fa rotondo smarrito. Per dirlo in siciliano, tonno perso, rotondo smarrito, ho detto in italiano. Nel senso che a volte si dimentica, l'ho raccontato questo per farvi sorridere, ma ho visto che non avete sorriso niente, però avete sorriso. Non sono nel pieno delle forze. Allora, per dirvi che a volte ci lasciamo smarrire, capite, nella nostra memoria. Mentre la nostra memoria è il nostro tesoro. Perché Gesù quando disse, fate questo in memoria di me, stava dicendo una cosa molto importante, non dimenticate mai, ogni giorno, ciò che io, quando riguarda i discepoli, sto andando a fare per voi, per quanto riguarda noi tutti, ciò che lui ha fatto per tutti noi. Ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per tutti noi. E non dobbiamo mai dimenticare questo, perché noi, vedete, la nostra anima ha a che fare con tante cose. E tutte queste cose che si fanno, a volte ci distraggono, distolgono il nostro pensiero da Cristo. e oggi più che mai, oggi più che mai, ne parlerò più in là poi, oggi più che mai. Vedete, perché Gesù disse questo? Gesù dà una cosa, si rifà, se noi, per certi versi possiamo collegare questo alla Genesi. spero di renderlo bene, vediamo. Gesù aveva fatto l'uomo, per la parola di Dio l'uomo venne all'esistenza, ok? E vi ricordate quando Dio creò l'uomo? Adam e Deva? Cosa disse ad Adam e Deva? Dio, dopo averlo creato, aver avuto comunione con lui, disse esattamente queste parole. Guardate, al verso Genesi 1,16, mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero, della conoscenza, del bene e del male non è mangiare, perché nel giorno in cui ne mangerai, per certo morirai. Dio disse ad Adam e Deva, memorizzate questo, mettetelo nella vostra memoria, è vero? Cosa è successo, invece? Che loro perdettero questa memoria, si lasciarono rubare questa memoria, interagirono con tante circostanze che circondavano loro, nel caso era Satan, il diavolo, i suoi pensieri. Io posso immaginare che visto che loro erano nel giardino dell'Eden e passeggiavano e c'era l'albero della conoscenza del bene e del male, c'era il serpente e potevano parlare con chiunque, perché Dio li aveva resi liberi. Avevano libertà. Dio non aveva creato robotte, ma aveva creato persone libere di poter scegliere. Però Dio raccomandò loro e disse, non dimenticate che io sono Dio, che io vi voglio bene e che non dovete mangiare di quell'albero, non lo dimenticate però. Mi raccomando ragazzi, immaginate Dio che se le prende, se le abbraccia, dice ragazzi, dai, non dimenticate, poi siete liberi. Però sappiate che nel momento in cui ne mangiate le conseguenze saranno disastrose. E posso immaginare quando loro passeggiavano, incontrano il serpente e il serpente è una figura simbolica logicamente, ma possiamo immaginare come un essere umano, anche lui, Lucifero, che li guarda lì e dice, ah ragazzi, Dio, Dio è Dio, sì avete ragione, Dio è Dio, venite qua, sentetevi sulla mia ginocchia, venite qua, che siete bravi, che siete belli, siete intelligenti, ma potreste essere anche più intelligenti, sappiate, cominciò a sedurli, a fare dimenticare loro ciò che Dio aveva loro raccomandato per rubare la memoria, per contaminare la memoria e le conseguenze, sappiamo come sono state, sono state disastrose. L'uomo si è lasciato sedurre, si è lasciato contaminare, si è lasciato contagiare sino al punto di dimenticare chi era Dio. Vedete, il concetto in realtà è questo, il diavolo vuole sempre che noi dimentichiamo chi è veramente Dio. Ecco Gesù che la sa molto lunga, con la cena del Signore cosa fa? Dà un nuovo inizio, una nuova creazione, o no? con la cena del Signore chi accetta Gesù nella propria vita nasce di nuovo, diventa una nuova creatura, una nuova creazione e nella nuova creazione cosa fa? Come nella Genesi. Gesù dice state attenti ragazzi, fatelo in memoria di me, non dimenticate le mie indicazioni. e per dirlo, Gesù evidentemente vedeva che c'erano dei rischi che realmente nella nostra vita, fratelli miei, vediamo che questi rischi ci sono e che a volte quante persone ci sono che sono perdute, hanno dimenticato la memoria. Persone che vivono male perché vivono contaminati nella loro memoria, non si appoggiano completamente alla memoria storica ciò che Gesù ha fatto per loro e lo considerano come il tesoro maggiore della propria vita, il più importante, il più grande, quello che gli può fare pagare tutti i prezzi per attraversare il percorso di questa vita, il viaggio di questa vita. Quanto è importante la memoria. E Gesù disse fate questo in memoria di me. Ora vedete l'anima, la mente c'è stata data volutamente a Dio, Dio ci ha fatto così, eh? E la mente è l'anima è capacità di scelta, ognuno può scegliere se accettare Gesù o meno, poi dopo che l'accetti se seguire Gesù o meno, dopo che lo accetti come seguire Gesù, in che modo, in che misura seguirlo, questo dipende da noi. E il Signore ci sta ancora dicendo e ricordando questa mattina quando vi accostate al pane e mangiate un pezzo di pane ricordatevi chi siete in me. La memoria ci dice che noi abbiamo una nuova identità, noi siamo una nuova persona, siamo una nuova pasta, siamo un nuovo essere e non dobbiamo più vivere come si viveva una volta, perché nel momento in cui qualcuno vedete a volte dice ma si il Signore ci perdona sempre, certo che il Signore ci perdona sempre, il Signore ci ama incondizionatamente, ci perdona sempre, però il perdono di Dio è in misura della nostra anche consapevolezza dell'errore, perché a che serve se il Signore ci perdona sempre se poi noi continuiamo a peccare, a sbagliare, continuiamo, perseveriamo nell'errore, qualcuno dice ma Dio non ti butterà mai fuori di casa, il padre non buttò il figlio prodigo fuori di casa, ma il figlio prodigo ha forza, furia di andare, di vivere in quel modo se ne andò lui fuori di casa, così anche nella grazia, capite? La grazia noi siamo, non siamo più nell'Eden che se uno sbaglia Dio dice fuori, capite? Siamo nella grazia, nella grazia significa se uno sbaglia può dire Signore ho sbagliato, Dio non ti butterà fuori di casa, perché se tu dici Signore ho sbagliato, perdonami, Dio ti abbraccia. Noi abbiamo un avvocato per se il padre Gesù Cristo è il giusto, egli è l'espiazione per i nostri peccati, per tutti, e se uno confessa il suo peccato, confessa il suo peccato, significa riconosce che ha sbagliato, egli è fedele e giusto da perdonarci ogni peccato e purificarci da ogni iniquità. Dice questo la scrittura? Allora, Dio Dio è sovrano, Dio ci ama, Dio nel tempo della grazia dà sempre opportunità a tutti, perché siamo in questo tempo, ma se uno se ne va fuori di casa Dio non può trattenerlo. E vedete, il peccato, la memoria che si perde ti porterà a cercare nuovi orizzonti. Pensate ad Adamo ed Eva, quando Satana gli dice guarda, ma tu ha detto veramente Dio così? Il dubbio, a volte questo dubbio che viene nella mente dei credenti, ma veramente è così? Sì, il Signore ci ama, ci ha perdonato, si è sacrificato per noi, ma poi sostanzialmente a volte abbiamo dei dubbi, perché cominciamo ad essere più razionali che spirituali, perché noi quando abbiamo creduto abbiamo creduto spiritualmente fratelli miei e poi la mente si è rinnovata e questo è un processo inverso, capite? Dove ci si smarrisce e ci si perde e pensate il diavolo che dice ad Adamo ed Eva guardate, veramente io vi dico che se voi mangiate così, se voi perdete la memoria di Dio e vi allontanate da Lui sarete più intelligenti oggi, domani, dopodomani bombardamento mediatico tra virgolette dell'Eden ma bombardamento anche oggi mediatico arriva che uno senza accorgersene sapete cosa fa? Sta in casa all'inizio e se ne va fuori casa sta in ritorno a casa e se ne va fuori casa ma pian piano arriva che se ne va fuori casa senza sapere di essere andato fuori dalla casa di Dio anzi a volte si giustificano certuni dicendo ma io non sono andato via dal Signore ma in realtà è un inganno perché anche questa è una seduzione ecco che Gesù dice fate questo in memoria di me non dimenticate da dove siete partiti cosa io ho fatto per voi e non dimenticate chi adesso siete voi in me vedete con la memoria storica con la con la perdita della memoria all'uomo parlo di Adam ed Eva le conseguenze sapete sono state disastrose avete visto o no siete accorti se crediamo alla storia della Genesi che quando l'uomo peccò fu messo fuori cosa successe dopo? lontano dalla presenza di Dio significa lontano dalla memoria di Dio cosa successe? la storia è testimone prima cosa Caino uccide Abele si era persa la memoria il Medio Oriente scusate il Medio Oriente diviene la culla dei primi scontri culturali e sociali che sono culminati in guerre terribili la Bibbia stessa ne parla dove ci sono tanti morti tanti feriti e dove ci sono dolori sia per i vincitori che per gli sconfitti perché le guerre fratelli producono solo ed esclusivamente morti ed è una figura dell'avere dimenticato chi è Dio la nostra memoria poi ci sono state le guerre dell'impero greco dell'impero romano le guerre europee le guerre americane le guerre africane le guerre di oggi sono tutti frutto dell'avere dimenticato chi è Dio dell'avere perduto la memoria della Genesi la memoria storica della creazione dell'uomo ognuna di queste cose però sapete da dove parte dall'immaginazione perché l'immaginazione è una parte della nostra anima l'immaginazione ha a che vedere con vedere l'esperienza del passato in una luce personale l'esperienza del presente con una luce personale e anche di vedere il futuro e l'immaginazione è una parte importante e Dio ce l'ha data è vero? è una parte importante della nostra anima con l'immaginazione si possono fare cose bellissime si possono vedere cose bellissime e si possono vedere cose terribili e tutte le guerre sono partite sempre dall'immaginare io sono più forte di te tu non sei come me tu sei il mio nemico sempre si parte da lì quello che è tuo deve diventare mio si parte da questi presupposti ogni cosa parte da questi presupposti anche le guerre di oggi partono da questi presupposti le conseguenze sono disastrose e determinano e parlano dell'avere dimenticato chi era l'uomo nella genesi prima della caduta e Gesù sta dicendo alla chiesa voi non lo dimenticate perché voi siete nati di nuovo voi siete nuove creature e avete una vita nuova in me non dimenticate chi siete diventati non siate come loro perché anche questi bombardamenti mediatici vedete a volte condizionano anche credenti anche noi a volte prendiamo delle posizioni sbagliate senza accorgercene e dobbiamo stare attenti a queste cose fratelli quindi l'immaginazione dicevo l'immaginazione è uno strumento è uno strumento dell'anima che può essere usato sia per il bene che per il male vedete è uno strumento l'immaginazione ma chi gestisce l'immaginazione poi è l'anima perché l'immaginazione può arrivare ma tu puoi dire sì puoi dire no puoi dire di andare avanti puoi dire di fermarti quindi l'immaginazione è un aspetto molto importante della nostra vita più che mai oggi con i sistemi che ci sono oggi più che mai l'immagine l'immaginazione porta delle immagini internet i social oggi più che mai siamo nel tempo dell'immagine fratelli non so io adesso ho una certa età ma penso che i giovani soprattutto però vedo qualcosa pure guardate da cosa siamo circondati oggi non vi dico la verità anche io a volte ci casco quando vado dal dal dentista siamo tutti seduti lì qui 10-15 persone non c'è più rapporto sociale ognuno si crea un proprio mondo e questo determina che cosa parlo dei cristiani in questo stare attenti perché ci vogliono distrarre dalla nostra memoria per contaminarci i social gli influencer oggi ci sono influencer che hanno non so come si chiamano follower si chiamano follower io ho 200.000 follower poi se ti vado a vedere un attimino questi influencer cosa dicono dicono ma come fanno ad andare dietro a queste persone e noi siamo soggetti a rischio tutti quanti ieri sera ieri sera guardavo con mia nipote e c'è mia amica Beatrice oggi dovevano essere qui ma c'è Elisa che ha avuto la febbre e sono rimasti mia figlia Gabriella qui con Alicia la piccolina guardavamo si voleva vedere un cartoon alla tv e dico un cartoon e poi voglio vedere me contro te così si chiama me contro te fratelli miei sono stato un'ora lì con lei a vedere ma cosa insegnano oggi dicevo a mia figlia Gabriella ma guarda che queste cose sono terribili delle stupidità incredibili fratelli miei che insegnano a bambini a crescere in un determinato modo così svogliati senza morale senza niente come stanno crescendo i bambini dove è la memoria della moralità e mi dice papà è vero dice di fatto io gli do dei limiti perché sono intanto i bambini sono attratti da queste cose le apprezzano ed è terribile questo sono stato lì un'oretta vi dico la verità dico mamma mia e poi mi diceva mia figlia ma sai quanti follower hanno queste persone un mare di gente sono diventati ricchissimi perché ci sono tanti che li seguono su youtube ci sono migliaia e migliaia e centinaia di migliaia di bambini prede di queste persone che li seguono su youtube è incredibile dico ma dove siamo ora vedete questi questi sistemi vivono in mezzo a noi noi non siamo esenti e lo scopo qual è bisogna stare attenti perché se noi non ci concentriamo bene sulle cose del signore veniamo distratti da queste cose e senza accorgercene entrano entrano dentro e ci condizionano occhio fratelli miei Gesù ci ha detto di fatti fate questo in memoria di me non dimenticate lui ci conosce non dimenticate attenti alla vostra memoria cosa c'è nella vostra memoria guardate poi vado verso la conclusione non è un caso per esempio che i primi due comandamenti vi ricordate il decalogo i dieci comandamenti i primi due comandamenti hanno a che vedere con la genesi del rapporto uomo-dio i primi due comandamenti hanno a che vedere con il rapporto con la genesi con l'inizio del rapporto uomo-dio difatti Dio aveva detto nella genesi che cosa lo creò stai con me tieniti stretta a me io sono per te io ti voglio bene ma attento non fare non mangiare difatti il primo comandamento cosa dice all'esodo 20 io sono l'eterno il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto dalla casa di schiavitù non avrai altre idee davanti a me io sono il tuo Dio il secondo non l'ultimo il secondo subito dopo non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli qua giù sulla terra e nelle acque sotto terra ora possiamo dire noi usiamo questa espressione per dire non di fare immagini scolpite e va bene ci sta ma non è solo quello capite non fare prendere nessuno il posto che io occupo nella tua vita tienilo bene in mente significa perché da lì parte il tutto genesi comandamenti un susseguirsi capite un avvisarci perché perché stiamo dicendo queste cose questa mattina perché tutti quanti noi siamo arrivati viviamo in questo mondo ora in questo mondo ancora come nella Genesi il diavolo va in giro come un leone ruggente cercando che divorare si traveste di angelo di luce pure si fa bello a volte è anche pietoso e ti dice senti qui bello mio e qua dai ma no questo non è niente non ti preoccupare dai continua il peccato e cos'è il peccato sei un essere umano capisci poi vivere una vita montana parlo parlo di vita montana di cose non lecite al cristiano e cosa ci fa ma tu sei un essere umano mica puoi vivere sulla luna qui niente ci fa Dio ti ama lo stesso e ti perdona lo stesso continua e lo scopo è quello di farci perdere la memoria di chi è Gesù di cosa lui ha fatto e di chi noi siamo diventati e viviamo in quest'ambiente noi lo crediamo o non lo crediamo la Bibbia dice che il principe di questo mondo è Satana e noi dovremmo dobbiamo dobbiamo no dovremmo dobbiamo essere di quelli che strappano anime dalle mani del diavolo non quelli che si accovacciano sulle ginocchia del diavolo Amen non quelli che dicono vabbè dai mi capisce però dai ma quelli che ce l'hanno sono arrabbiati col diavolo noi siamo di quelli che sono arrabbiati col diavolo in primis con la nostra vita e poi strapperemo anche le anime che sono nelle mani del diavolo ecco che Gesù allora ancora questa mattina ci ricorda questo e ci dice fate questo in memoria di me vivete in questo modo non dimenticate cosa ho io fatto per voi chi sono io per voi e cosa voi siete diventati prima Pietro dice così capitolo 1 verso 23 voi siete stati rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile per mezzo della parola del Dio vivente che dura in eterno noi siamo sua pasta significa capite non siamo pasta di altri non siamo pane di altro noi siamo il suo pane fatto con la sua vita con la sua pasta e c'è una differenza tra questo pane figurativamente parlando spiritualmente parlando e il pane di questo mondo c'è una differenza abizzale altrimenti potremmo prendere qualsiasi pane tra virgolette ma noi prendiamo il pane che il Signore ha stabilito come cena l'ultima cena per ricordarci proprio tutte queste cose alleluia quindi ancora oggi sorelle e fratelli sorelle e fratelli sorelli e fratelle con la celebrazione della cena del Signore lo Spirito Santo ci ricorda di stare fermi nella memoria di ciò che Gesù ha fatto per noi e se qualcuno si è lasciato distrarre o si è lasciato sedurre dimenticando le parole del Signore lo Spirito Santo ancora questa mattina ci sta dicendo tornate alla santa memoria dell'ultima cena e allora ci possiamo tenere stretti a lui per superare ogni attacco del diavolo che vuole farci dimenticare ok noi vi ricordate il padrino avete visto il padrino io mi scordo ricordate noi lo diciamo in quei termini ma noi diciamo al Signore dobbiamo dire Signore non lo dimenticherò e venendo avanti questa mattina prendendo la cena del Signore dobbiamo dire Signore non dimentico anzi rivivo chi tu sei per me e cosa tu hai fatto per me ci alziamo in piedi alleluia gloria a Gesù che tu hai fatto per me